Ancora in farmacia qua in Borgo Milano con il dottor Paolo Delaini per parlare ancora di questo progetto farmacia amica dell'allantamento materno. L'ideatore è il dottor Delaini, la rete che si è espansa è quella di cui vi abbiamo parlato con il melograno tra l'altro l'associazione anch'essa anima di questa iniziativa la quale si sta allargando a livello nazionale. È un progetto che ha incontrato il consenso a livello nazionale perché le farmacie sono diffuse sul territorio in modo capillare sono sempre aperte, sono luoghi di incontro con la gente ed è facilissimo per un farmacista aprire un piccolo spazio basta anche una sedia dove far sedere la mamma che ha una difficoltà durante l'allattamento e attraverso una rete di contatto con altri operatori sanitari accoglierla e aiutarla a risolvere tutti i problemi che le permettono di continuare ad allattare. La farmacia è un punto di incontro sociale, sono moltissimi gli stranieri ad esempio che fruiscono di questo servizio perché la farmacia comunica immediatezza nell'assistenza e nell'aiuto sanitario.